Basica Ma O uscito Toff & Nuke? Magari ha fatto usci qualche altro video? Mr Toff & Nuke Eclips in tua namur Senti come stasera pure il volume di Chrome Ma che cazzo è? Ma si sfanculati tutti i volumi Sono sfanculizzati, non lo so perché E... E... No, ancora non uscita, no, no, 10 giorni fa Allora, tendenzialmente la Doran l'avevo presa perché Mi dà vita ed è forte la vita contro Un matchup contro Irelia, tendenzialmente Longs or Refeable Le prendo quando ho il TP o comunque Voglio usufruire molto le pozioni In un matchup per il quale mi permette di usufruire le pozioni Cioè se io gioco contro mille, solo range delle pozioni, non è che mi servono troppo Giusto? Quindi magari riesco ad andare più sulla Quantità che sulla qualità, tra piccolette Però devi essere però gestito il matchup Contro Irelia avrei preso volentieri tre pozioni Perché non ho neanche il TP, quindi Mi ti andamori Dimmi Tim, mi hai taggato? Però... Perfetto Dove ne sceglierei da metterlo? Il jungle arriverà qua a breve Quindi... Ho iniziato a rosso da solo, ma non credo Bisogna iniziare a rosso da solo Sto periodo storico Quindi usciamo e risettiamo Perfetto 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 andiamo da Dex l'ho presa almeno Ehi, sto Minecraft che giocatore top, sì Ma vaffanculo tutti Tutti raffilati Tim ci scrive, sono uno streak di 10 game Tipo, ma nel senso che ogni game ero preno al 15 Può capitare, mi è capitato a diventire game di film GL Eh, è colpa di Rumia, è colpa di Rumia È colpa di Rumia, ragazzi, ha piccato la champion Nella mia stream potete decidere se... Perché ha tippato questa? Wow Allora, aspetta, venite a me Sto facendo troppi di test Nella mia stream potete decidere di farmi piccare un campione Una volta al giorno, lui va animato E abbiamo piccato questo Contro quel team, Rumia, direi che è meglio gare il force Shilbo non si può mai inviare Mai mai Esatto, team Rimani rilassato e stay chill Continua a giocare Cane, se tiri l'ultimo colpa di minion Dan oro, grazie Va cagare il bo Però bo contro l'isini, reia, che cazzo ne so Questi mi esilurano meta Da i bot Smella cash Cush Migun non lo builda mai Grazie lottero e gas, grazie al follo Gas 26 e tesi Bella voloni Fabius 22 2 Eclipse Ma signor Fabius Eclipse Non lo buildo il guest bro Grazie a tutti Carca madre Un po' trollato ragazzi sto game Sennò li deve più scarsa di me Ci manca la prossima Bello, tipo ho cominciato a giocare a lol Ah, un uo vizio Ti ha fatto fame Ti ti ha consigliato, ti assicuro, non è tuo amico bro Non te vuole bene Mamma mia, che casino Livello 7, doppia buvelo Se l'ho ricordato bene L'occaso mi dà più fastidio È, io sono Ad egghello Mi sono impianto ad arrivare a plat 2 Se poi una volta arrivato a quel punto Doi troppare 100p per game open Mi dà un po' fastidio Ma ci sta che ti dia fastidio mate Nessuno sta dicendo che ti dia fastidio Però ragiona Sta cosa è successa, giusto? Ora Se a te ti farò del culo O meno Cosa ti cambia? Non è che se te lo del culo Torni a Ai punti che hai di prima, giusto? Quindi tanto vale prenderla con parsimonietà Si può dire? Dunque con parsimonia È peggio da droga Ma non è che è tanto peggio da droga bro Che tilti, tilti Se non sei Se non è un mental stabile Tilti mate Devi essere forte di testa bro Quindi una volta che hai raggiunto Da knowledge Nel dire Tanto Se mi incazzo o meno Mo non cambia niente I punti non mi ridà nessuno Arrivo al punto Nel quale capisci che noi Dele arrabbiasse Non ho visto quanti capisci aveva Stai da migliorare Determint poi sarebbe No Determint Oddio Doppi passato Determint Determint Sono stronzo Ah giusto Perché Come sai che determint Perché tipo Passato prossimo Che cazzo Non so Vabbè Determint va bene Ok 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 E determint Per cosa sarebbe andato bene Invece Eh lo so Lo so Prociso a volte In cui in inglese Si usa il doppio passato Tipo Qual era la condizione È detta vera Non finire In galera Night R Per farti bocciare Per un cazzo Aspetta Sono sicuri Perché io Si è riserviata Doppio passato In inglese Io mi ricordo Che c'era No Quello è con Where Però Was where Dio Ma Perché mi ricordo Sta cosa Non so Vabbè Ah Forse si Mi confondo Edment Si 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 True Si usa con leve Si Edment Si Ah ma perché Mi ricordavo Sta cosa Dico ma che sta cosa Me la ricordo Me la ricordo Allora per quello Irelia tra l'altro Mi ha incoltato Ah Tanto abbiamo andato Head mid Che non è male Irelia non è fiddata Comunque Perché qua L'ha presa Annie Però C'era ulti up Adesso Be careful A scoundrel Left alone Will always Be a scoundrel The world won't save itself E' qua Guarda qua Deveva fare pure il drago E' l'hice comunque non gliela fa Bro Non gliela fa proprio Vabbè Avrione Vabbè bro Lei non gliela fa Mate Porca boia Intanto cosa ha potuto fare Lei meglio per scappare Non mi ha fatto la queen Lei Fabius 22 Do eclipse Votrk BT DD Wits Cosa vuoi pusha Porca Ho capito Ho capito Grazie Mi del consiglio Fabius Grazie Ora Lo useremo Prima o poi Allora Top Is pretty Dude Qua guarda Guarda che Yenna C'è No Sono morto Ho sbagliato Ho sbagliato io qua Proprio Ma è bad Dovevo non poter fare quasi più niente questo match up Zero di zero Questa mi fa pure 100-zero di dive Secondo me stiamo prendendo la Quella etapa Boh In teoria dovrebbe che gli aggregassi l'ice Però l'ice non è brava Non ho letto Eh a due livelli sopra perché ho permarmato C'ho permarmato No però Ho romato un casino Poi mi ha romato Anytop pure Buono Buono Poi dannettini Non male Signor Soslan Bella bro Signor Soslanuccio Grazie mille del supporto 21 mesi Twitch Prime Ribemennuto le cani-cane Soslan Bella bella meta Ok Fortuna comunque non siamo troppo 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 behind Di Di Mian pure Perché là c'è pure le plate Con il problema Cosa non va Metto la guardia qua perché se lei magari vuole premere giro Go back Non vediamo se c'è Giorgio Dissingerebbe essere topside Ok Dio domani andiamo a battere con i vecchietti del med Non sei contento? Mette alla grande Non ho contento di più mate Mi avevo detto già tre bullet Chissà che tornuccio faranno Sto a pensare oggi Fanno il classico Occhio Italia 65k GTD Ma certo mi ha dovuto ripapurare la tessera Ma non muovo Allora Sì Sì 5k GTD nel shilling C'è sta A barbone Viene l'ice Viene l'ice Stasera te schiari invece mate Il giallone Buono buono Non sono facendo la re-action horror Qualche volta sì Ieri iniziamo parla al no Parla al no speed D Quanto ho fatto? BG mate Porca boia Ho fatto a buona metà Però non c'è senso Però non c'è senso Parla a sto drago To be honest Secondo Sono in fissa Con i video horror Di quelli che fanno I posti abbandonati Ma lo sai Buono farlo pure io mate Andavano i posti abbandonati In live In streaming Però mi rompe le palle Prende tutta l'attrezzatura C'è un casino E chi sa Iaman Safari Io lo faccio in streaming Non su youtube Andiamo Io direi Ma sarebbe da fare Ma pure la tutta l'attrezzatura Ma se te caghi in mano Mentre non hai capito Io mi cago molto in mano Facilmente Che cosa devo buildare Rumia? Storm Razor? Rumia fast fast Però A me la sensazione De cagare me in mano Mi piace Cioè non so come spiegarti Capito? A me piace Aver paura Cioè me Me eccita È strana come cosa Io se vedo Io no Se vedo qualcosa Ce l'ho dritto sferito Io magari Tentenno E beh Ovvio ovvio Non è strano Vabbè Meno male Allora Perfetto Herald Metà Eh Do sta Irelia? Lì Buono Ma? Si è fermato? Niente Prima faccio il Nunkerflex For fun Mi fida top Prendo more case Contro comunque Non ha fatto 13 minuti Mi ha devastato Pensavo su uno smartphone Era zaga di 911 Challenger 1023p Però ho fitto il game comunque T'ha distrutto Eh Diciamo che quando c'è un Challenger Che Che gioca Ranger Contro Melee La vedi che vuol dire La vera differenza Tra Challenger Tra Melee e Ranger A volte non so C'è il vero Cercare le stazioni Spacevoli anche artificialmente Vero True True Allora Di quelli che metto in video Che non si vede una mazza Però che fanno in video Del mio 23 con il telefono Eh si vuole un po' un cac Rumia Ye Ye C'è Ti prego No ye Ti prego No ye C'è C'è Cannini presi Non lo so No bot Che se buildam rumia Una bella ye Sì siamo I video abbastanza vecchi Where is carne lupo He's crying in his car Poor carne lupo Airport is that way Sempre di mess Basta che non abbiamo giocato male Ragazzi Guarda che Graga si è andato Ed perché L'abbiamo andato noi Ed Guarda che moscone Va Gigante Sembra una cazzo A strenare Amen gattolo Amen Ciao 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 Di nuovo Conosco un buon canale Che ho potuto i video Che posta la gente Minchia A Malta Non abbiamo squadra No Ma ti ricordi quanto Lo odiavano quella bambina Nei tempi Sì poverina Dai Alla fine era piccolina Ah sono morto Ma distrutto Ma indistrutto Unite Sarebbe quasi quasi da fa La Mab Ah rapid fire Vedi Ok Nici shot Sono pure errato Ah biscrank Diviene 4 Mi piace molto come il canale Tra un sacco di video Io mi vedo toffa il nuke Di solito Con i muri comunque Lascia perdere il rampino Perché mate Troppo sick Non ce la fanno in due Sì Troppo corti Ok Fate pressione Fate pressione mid Ma baron fatto GG G fucking G Rise Rumble Fiora Jax E poi giochi action No ban Please Eh Dani Ce l'ha redimato Rumiotto Dalla champion Selection Dello store Detto cane L'ho redimmo E più giochi action Adesso Comunque Rumi Ma qua Ci stiamo migliorando Eh Deve essere una cavolata Però Eh Rumi Ma dopo 3 volte Mi sono toccato Io Insultati Mi la faccio più Oh Ai 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 Non ci mi ragioni No Ma non si bella tipo Blood su sto coso Mai Se vuoi ti passo il nome del canale Gli dai un'occhiata E a fidare è veramente bello Ma no mate Chill chill Comunque Mi inviano una mera di meme Cioè di meme Di video così Il verme E Rumi E Rumi Chi mi ha fatto giocare actions Se no È stato il verme Proprio un verme Vedete quanti danni faccio Per curiosità La wave Però sta arrivata Quindi si mette La wave Questa Ma è che c'è pure Sto qua perché c'è il drago Il drago Tra poco Quindi poi sta aggruppato Allora Allora Lo divappano Buono Niente rapid fire ancora Porca miseria Ma contro quel team diciamo che Crea che hanno che mi piace troppo Eclipsa Joel Spano Vedete quanti danni faccio Benvenuto nelle canne In realtà si può pure fare la torre Ma su ISKHP faccio danni Oh nice Sono sicuri che comunque si gioca senza Sostiene sto coso Ma è stato io push Niente Un po' trollato Un po' trollato Ho un po' trollato Madonna Non c'ho ancora le meccaniche Non c'ho ancora le meccaniche Non mi vengono naturali Comunque cosa build ora rumia Cioè senza ieri ho build O lo faccio quarto ieri O non build io Sembra strano Che build Ho usato W ogni tanto E che c'è che avevo la W là? Dici per scappar via prima? Ormai me l'avevo visto Cioè morivo lo stesso Che fa la W scusa? Ah no infatti Mi dà 100 muove speed Ma morivo lo stesso Ho gruppato col team Per Vado un botto Fuori scappa prima Sembra uno che scappa mate Penso che andate per girare Comunque rumia Che mi do build adesso E' ok E' ok E' ok Ho il Galeforce Non c'ho Non c'ho pensato E c'ho il Galeforce Che casino Non c'ho pensato Non c'ho pensato C'ho il Galeforce Che casino L'abbiamo da un rispondere Solo se c'è qualche nemico Che ha fatto una kill E recentemente Se è il range Ok Che casino Avesse usato la Galeforce primaria E hai killato le SIN Invece ho dovuto Fascomodare Gragas Non sono abitato A giocare Cioè campioni Con la Galeforce Non mi viene istintivo Cioè penso che Le cose migliori Cioè uno migliora tanto Su un gioco O in generale Qualcosa Quando le cose Vengono istintive Cioè che le ha imparate Così tanto bene Che è istintivo farlo Lì diventi forte Vediamo botte C'è il drago tra poco Soul Ok 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 Time ho scelto un trawade, mi ricordo che questo lo uso ahah beh vado giola meglio però vabbè vado farvi dall'altra parte se mi salvavo g g g g g GG, GG, GG It's game Top gap E top gap questo game non si può di Ma neanche lei abbia giocato troppo bene Sinceramente contro action Ho fatto una volta una kill così però Ho detto abbastanza ok Ma come più 21 Che sto a vedere Bravo Kragas Pure Ci hanno dato pure un Penso a te Vamos Vamos, 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 vamos Non mi sembra tanto male action sinceramente No, manco a me mi sembra male Yoichi Isagi Yoichi Isagi Ora voglio andare a giocare due campioni Quelli che stanno superando il titolo Tre win zero l'osa Voglio ma Andiamo a vedere un attimo Su OPGG Angeriamo Vabbè Gli ultimi Gli ultimi 40 game 24 win 15 l'osa Vediamo gli ultimi 60 35-24 38% participation kill Kidiago Rise 7 win 3 l'osco C'era 5 win 9 l'osa Rumble 5-3 Oddio Ecco dobbiamo vedere Grazie